ciao spero che si veda ho mangiato però ciao chiacchieriamo un attimino tipo momento un po no sono un po giù ragazzi scusatemi cioè questa qui non sarà una live troppo troppo allegra sono un po giù ci sono questi momentacci tipo tesoro come sto sono un po giù cioè un momento un po così a dire la verità questo è un periodo un po strano ma non è successo niente in particolare sono solo un po giù quindi vabbè capita ho mangiato ho mangiato sì 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 ciao Giorgia sono nel letto tipo di là ci sono gli akamet e leonora che stanno tipo canticchiando sentono le canzoni io sto facendo la vecchia in questo momento praticamente la super vecchia bagascia che mi sdraio eh senza offesa tu non devi essere giù tu meriti di essere felice sempre ti ringrazio tesoro però mi sento un po giù tipo mi sento un po abbandonata a me stessa e vabbè purtroppo ci sono questi momenti ma deve essere successo qualcosa per farti eh ma no vabbè è il periodo ragazzi non è che mi è successo qualcosa hashtag alice depressa ma è brutto è tristissimo io sono il mio motto praticamente è tipo jolly quindi un nome qualsiasi del tipo un nome qualsiasi sorridi perché la vita è bella ragazzi no allora volete vedere un pezzo di video in anteprima tipo no non so se ve lo posso far vedere però invece forse ve lo faccio vedere così ci tiriamo su un po tutti aspettate che prendo il computer aspettate ashtag alice sorridi io vi amo ragazzi allora vi faccio vedere ho tre video da tagliare ho da tagliare uno la collaborazione che ho fatto assieme a Michele che è una challenge due il video vlog che ho caricato cioè che ho girato nella settimana che siamo andati a fiuggi a girare con Michele il suo videoclip the days e tre la super collaborazione che abbiamo fatto ieri con tantissimi canali non vi voglio far vedere troppo però ad esempio tipo queste sono parti del video vedete aspettate eh non vi voglio far vedere tutto però però poi non guardate il video però non vi voglio far vedere niente tipo aspetta eh vi faccio vedere tipo una parte aspettate eh no ho sbagliato ok aspettate eh dai guardate guardate quanti siamo guardate che tolgo guardate quanti siamo super collaborazione tipo che però guardate 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 Comunque Speriamo Ed è la collaborazione che andrà sul mio canale Dove ho voluto fare La nuova generazione di Youtube contro la vecchia Quindi loro ci facevano sentire Delle canzoni nuovissime E noi ci facevamo sentire delle canzoni vecchie Vedere chi le sapeva E è molto carina E invece con Michele abbiamo fatto tipo la post-it challenge Sul mio canale E Sì a parte che Se c'è qualcuno di voi che è venuto a like Atrazia l'altro giorno Avrà visto il video Ma lo volete vedere il video in cui Michele mi offende tantissimo? Ok Ora ve lo faccio vedere Questo video Io l'ho portato a like Perché tutti dovevamo portare qualcosa su Michele E io ho voluto portare questo video Perché Tipo Lui mi tratta malissimo Tantissimo Malissimo Come mi tratta di solito Sono qui con il mio amico Michele Bravi Io sono tuo amico Io sono tuo amico Io sono tuo amico Che sei a dire Sono qua con Michele Ripresentami Ripresentami per favore Perché Ripresentami Ma capite? Mi ripresenti? Sì ho capito che te ripresenti Mi amici è qua con Michele Bravi Come dei dati del voi Quando passo io oggi Ginuflettiti Allora come sta venendo questo videoclip? Che dici Michele? Fa tutto schifo Nella tutta compa sua Nella tutta compa sua Nella tutta compa sua Fa tutto cagare Sei proprio cattivo È una persona orribile lei Disiscrivetevi Subito Andate a scrivervi Via dal suo E nel mio Magari sono complessate come te Mi dispiace Però scrivetemi a me Ma baffacca Mettete tanti pollici in giù per Alice Perché è una persona orribile E invece tanti pollici in su per me Yeah Yeah un cazzo Per il abitatore È una persona orribile Ciao ragazzi Ciao Io da ora in poi non parlerò più con Michele Bravi Ciao Buonasera Michele Pontalo È una persona orribile Ne vogliamo parlare? Ne vogliamo parlare? Quanto mi tratta male? Ditelo Ammettetelo Tantissimo Tantissimo proprio Mi tratta stramalissimo proprio Infatti io vorrei che questo video tipo lo carico da solo Proprio tipo con il titolo Michele offende Tipo una cosa del genere Ragazzi che tristezza Comunque Mi tratta veramente male Mi odia E io l'altro giorno ho addirittura pianto sul palco Vi rendete conto? Tipo E non avevo nemmeno il trucco waterproof Comunque 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 Hashtag Michele offende Perché è quello che va Dopodomani va al video Un video simpatico Tipo E venerdì invece va al video vlog Appunto del backstage Organizzo un incontro a Genova Caracchio ragazzi Sto cercando di organizzare gli incontri Ma non sono facili Spero di sì Prego dei likes Ragazze Se postate le mie foto Ditemelo Taggatemi Perché mi piace un sacco rivederle Oggi ad esempio mi hanno postato una foto mia Di Muriel Che ci abbracciamo Cioè Adoro Adoro tantissimo Tipo Hashtag Michele ti amiamo Mary Grazie Sarebbe un cuore però a metà Perché l'altra sta leggendo l'iPhone Domani la verifica di storia Ragazzi Cioè io te la potrei anche fare Però mi sa che è un casino È un gran casino Però Te la posso fare Cioè Sorrisi che faccio lo screen Vai Facciamo gli screen Così a caso Tipo Non essere triste Tu sei la felicità Infatti Io sono la felicità Qua su YouTube Di solito Sono sempre quella che tira su tutti quanti Però Ultimamente è un po' così Vabbè Aspettate un attimo Che questo no Ok Mi sorella ti ha conosciuto a Torino Ma dai Salutamela allora Salutamela tantissimo Posta ovunque Michele offende No no Assolutamente Però mi tratta male Quello molto A Brescia ci verrai mai Non lo so ragazze Spero tantissimo Non lo so Non succede niente È un periodo così Un momento un po' no In generale Però Io vi voglio un sacco benissimo E mi diverto tantissimo A fare le live con voi E tutto il resto Quindi Mi piace un sacco E adesso mi devo mettere a tagliare il video Perché altrimenti venerdì Non esce niente Però mi raccomando Dopodomani C'è il video tragicomico Quindi sulle figure di meta E mi raccomando Ami mi accento Grazie tesoro Grazie Grazie a tutti ragazzi Grazie 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 Guarda Pezzettini di cuore Proprio Pezzettini di cuore Per me Certo che ho messo l'ex Ripeto tipo un sacco Grazie tesoro Grazie Grazie a tutti i cuoricini Grazie a tutti Ma che è che Ma ci conosceremo di persona Prima o poi No? Cioè io spero di organizzare qualcosa O con Sofia O con Miche Insomma con qualcuno Tra parentesi Io li amo tutti Tipo Io sono una persona Che ha bisogno di tanti tanti amici Cioè io Io voglio stare tanto 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 in compagnia Mi piace un botto E Ho bisogno di amicizie del tipo Però la cosa tristissima È che durante la live periscope Di hashtag Alicele Melanzane A Michele gli hanno detto Di cambiare amicizie Quindi oltretutto Chi mi risponde male Gli consigliate anche di cambiare amicizie Grazie tesoro Ma ci abbracceremo prestissimo di nuovo Tantissimo Eh vabbè Comunque Ragazzi Cioè questa live sta durando una vita e mezzo Scusatemi È una live inutile vero Brutta Vabbè Comunque è un po' giù Però ogni tanto capitano questi momenti Servono Servono per tutti Perché Vedere che le altre persone Stanno Non sempre felicissime E può aiutare sempre Ah tra parentesi Se volete Ho finalmente messo La possibilità di seguire il profilo Il mio profilo privato di facebook Quindi tantissime mi chiedevate Qual era il mio profilo Basta che cercate Alice Venturi Su facebook E mi vedete Che tanto Ho messo la possibilità proprio di seguire tutto il profilo Così almeno Possiamo scriverci Potete commentare Potete fare tutto Quindi se volete Ci vediamo anche là Poi vabbè Oggi ho snapchato Tipo tutto il giorno Quindi insomma Mi trovate da tutte le parti Basta ragazzi Dai Mi metto a tagliare il video Che se no Non ce la farò mai Non ce la farò proprio mai Mi raccomando Se avete delle foto Del Alcatraz Sul palco Cos'è varia Mandatemele Cioè taggatemi in giro Così almeno le prendo Perché mi fa troppo piacere Adoro 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 Su snapchat Mi chiamo Alice Like Audre1 E su twitter Trovi la foto Del mio account Così se lo vuoi aggiungere Tramite la foto La puoi aggiungere Ragazzi Ci sentiamo Prestissimo Vi mando un bacione enorme Buonanotte a tutti Buonanotte Buoni sogni Buon tutto E ci vediamo prestissimo No non sono sponsorizzata Sono tutte persone Che io amo Che io amo Che io amo Queste persone qua Che stanno scrivendo In questo momento Queste 141 persone Sono nella mia famiglia Virtuale E quindi Sono persone che amo E non sono assolutamente Sponsorizzata Cioè sono amata da loro E io amo loro Basta Ok Buonanotte ragazzi Ciao amici virtuali Ciao a tutti Ciao 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 Ah Non riesco a chiudere Non vogliono che chiuda Ciao